Perché io con le boxe e basta sono un bot Cioè non ho lo stealth Non ho la Q Capito? Ok allora io vado in stealth e vado a mettere vision Vai poi in filistic Starta da blu sicuramente quindi Lui starta da blu Vai straight up qui tu Io vado subito al blu a mettere vision E dobbiamo pregare che loro Non mettano vision però Allora spesso con un gioco shako top Che lo gioco con lo smite vado a rubare il buff Come prima cosa ed è raro Che Vengano anche solo a controllare Il buff Ma Tarandle come mi segue? Let's go baby bravo Possiamo anche il bodyguard Fiddle si sposta Tarandle secondo me non ha capito che non sono il jungler Però mi segue lo stesso Tarandle segue He doesn't know È innocent C'è Ken Bro ma stanno con le cinture di sicurezza qua Ma che è sta roba oh Word double check dei cespugli Spaccano la pianta ma che è Ken è andato a controllare ma controlla Ma non mi dà neanche una mano No no niente Ah no non è afco Ok meno male Stavo già spaventando Ok Ok Non faccio il lobby bo È sparito Fiddlestick ma non è caduta la nostra giungla Eh può essere ma che gli dico What the fuck who's support Morgana Vado a controllare No Cioè il blu non c'è almeno Ah è lì Cioè ti ha preso il red buff Eh bro Non ci posso fare niente C'hanno word ovunque Sono troppo smart C'hanno letteralmente word ovunque Cioè gli aspetto qua Al suo coso ma Sta tornato giungla bo Eh lui me lo fa Cioè qua mi faccio il grumpo almeno Sì sì Vado a dare un occhio Eh no è lì Ok Dai c'ha solo un red buff adesso Fattivo Bro ma è devastante La effort che ci mettono a diciare i junglers Sì Report Twitch and Shacko Two junglers Perché? Vindal of course Vindal non vede l'ora Vindal è tipo Sì 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 good idea A questo elo Tu devi seguire quello che c'è scritto C'è capito C'è scritto Bianco su nero Che tu sei obbligato a giocare E adc Support e via Non lo fanno al grandmaster A grandmaster c'è lo 0 e top tutti i game Non riesce a tarmi sto tizio Vengo ai crags Ok Ma non mi ha tirato neanche a W Niente ha fatto Dani c'è Bardinet bro Un tipo che ha fatto il challenger Gioendo Bard top senza far mare Gli cade la torre al sesto minuto Top tutti i game Ma infatti ma è Vex che vuole reportarci Perché così Abbiamo due jungle Report Report Punto Senza motivo Vinciamo Report nel dubbio Vado a cercare fiddle Ha pure flash Non ha flash fiddle stick E lo entro l'ammazzo Cazzo Pensavo andasse Oh guarda che va sulla box Forse No Vabbè 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 adesso Vado a prendere il Niente Stanno Stanno tutti quanti A difendere Le mosche intorno alla merda Tutti quanti Non esiste Non esiste sta roba Report looks for picking my pick Addirittura C'è anche questo crimine Vuoi tu red buff No no pia pia Dove andrà il gromp Vai il gromp Va il gromp Ah dov'è Ok Non c'è red buff Tu prendi bot side Io prendo top side Ora ci swappiamo Perché il tipo sta al red Ok Questo sarà divertente Mi piace che Fiddle cammina Non trova niente Sta camminando Headless chicken Nella giungla Sta un po' Mida adesso Ma è l'uomo qua Perché perde l'aggo Scusa Vabbè mi devo sfumare Talla mia giungla Che non gliela faccio Ah fidesi che non va più in giungla Sta lì adesso Ha cambiato ruolo Multi roll talent Fiddle stick È la madonna Un po' too much Pure la control Fiddle stick non c'ha vita Che sta facendo Stanno venendo top side Fiddle stick è senza vita Quindi anche se viene Non combina molto Secondo me va back Fiddle stick Ah no è lì Nooo Se l'ha preso Ma l'ha smitato Eh gg Nooo Che tragedia bro Ah gg What a tragedy bro L'avevo lasciato super low Non pensavo avesse lo smite Mi sono fatto fattere Guarda come va a difendere Lux Ma come un altro smite No l'ho smittato io Ah ok Ma Lux è una difesa incredibile Non sono riuscito neanche Possiamo fare meglio Di nuovo Sì Ma sono sempre io a troll art Ma eh Dio Maledizione Qua potevo killarlo ma È intervenuto Che lo è Grandmaster Come potete ben notare Omfg Ok Lui non si la vende Lui è perché è un drive and play È un chaddone Non come quella pussy di Vex È un chaddone Vai al lupo? Vado al lupo Io prendo mobility Però mi sa che qualcun altro Sta venendo al lupo No Lux è mid ancora Controllo Faccio il checking Lupo è andato Ai 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 Lupo è andato È top Beh non troverà molto Faccio il gromp Ok Cammina per la giungla Perso Bravo Vex Ok Quello che volare Brava Vabbè sì Quello che volare Riportarci Ruba ruba Adesso usufruisce Dalle nostre Dalla nostra Tattica Ma pensate Ingrati E non siete altri Ma Draven come stompa Eh Draven è fortissimo Ma sai qual è il fatto Che sto elo E la gente La gente non è in grado Di sfruttare Il vantaggio Bot quella Morgane Io te lo dico È stata dietro Tutto il tempo Non è che dici Andava avanti Per tenere Draven Lontano dal No niente Non avrà fatto nulla Stava lì Intanto Ti aveva una cuda E me la doggiava A fine Non gli impediva Di farmare Non gli impediva Di expare Niente Un po' Con la mia sforza Sono morte Sono morte Entrambe Abbastanza velocemente Però Anche Sono morte Entrambe Double kill Al minuto Tre Sto Draven Penso sia un mezzo smurfino pure Dici Eh sì Non giochi Draven A queste Grandmaster Attenzione Sta nel Raptors Raptors Per te Lux Bodyguard Guarda Guarda Io l'ho rubato lo stesso Il bodyguard Il bodyguard È stata lì Tutto il tempo A controllare Che non ci fossero Interperie Sarà il pre-made Dai Non ci credo Io vado ai lupi Sarà il pre-made Se no Non me lo spiega Sta cosa Adesso fa più danni Fiddle Però è al 4 Magari se la fa Il campo Se l'è fatto Eh bro Li rusha ormai No 19 minion Sono troppi Troppi Non va bene Possiamo fare Di meglio La prima volta Siamo riusciti a tenere Quella V Ma sai perché Ma perché quella volta Ti ricordi V Non solo stava venendo Contra giocata Da due persone Veniva anche insultata Da sui tiri Quella V È stata Il nostro Il nostro miglior outcome Perché Veniva insultata Dai teammates E ignorata Noi ci mettevamo qua Ma i loro teammates Stavano in lane Sì è vero Quella fu perfetta Che bello Che bello Che bello Ed era anche mezzo Mezzo straniero Perché ti ricordi Che parlava male L'inglese Sì Ah beh Sono tutti Nessuno è inglese Da questo punto di vista Eh no Il Viego di prima Riusciva a parlare inglese Ah sì Eh sì Ce l'ha anche fatto calda Guarda Draven Uno V2 Guarda Morgana Non fa niente È un bot Per questo sta facendo Uno V2 La stunnata Ash ha stunnato Draven Non ha fatto nulla Morgana Non ha tirato neanche la ult E una Q Nulla Ma Feeder era top Mi sono Sì era top Era top Non l'hai allucinato Fai al suo red Pronto Che sgambetta Verso il red Aspetta C'è anche questo Ma è al 6 Cosa ha preso Ah Exp dalla lane Perché non c'era nulla Ok 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 Avengers Avenging Quanti sono? Quanti sono di nuovo? Tutti C'ha due bodyguard stavolta Non solo uno Arrivo Eh minchia lui spawna prima però Vedi è scomoda sta roba Dovremmo avere il TP Come hanno detto in chat Tipo TP per... Sai cos'altro? Le mobility Io infatti l'ho preso Eh cazzo Le mobility un po' aiutano Dici che sta red? Pinghiamo 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 Sì sta red sicuro Meno che vado a far... Io non so guassare Ma dai che va mi faccio i braids Ah io oltre a quello Mi sono messo anche Che non sto sfruttando molto Il Relentless Hunter Per la moving speed Pure io se l'hai appena fatto Mamma mia Eh ma è iniziato a... A succhiare forte Ciao Fieric come stai? Cosa consigli dopo una rottura? Ve l'ho tancata io no problem Ok Eh vabbè un pochino Resta riuscendo Peccato Dobbiamo trovare di nuovo Un team che... Oddio questa? Che gioca contro Il suo jungler Questa Lux è... C'è anche Ash qua Quanta gente Qua c'è anche Morga La bot... Tutti tutti Midlaner in top La botte in tutti Tutti a difendere l'amico Ma adesso su me va bot Fiddle Perché è morto top E starà già facendo il loop E lì a Grazine del Sub Bentornato caro Io faccio un try Ai braids Fai fai Potrei morire Perfino Io sto volando in bot Morgana Ma noi mandiamo un messaggio Non è il try yard Non è la vittoria È mandare un messaggio Ricordo Eccolo Ignite Ok Gli ho smaitato Giorgio di Ignite Nice Vedi che è hard Fa sta roba La gente non capisce Ma perché sto elo Ci si aiuta a tutte vicende Capito? Solidarietà Sì È tipo tra le mie Porco È questo È good in Tushako Pinter Però si è hitta prima il clone No Tra le minoranze No Ci si unisce Eh non fatti in tempo Hai ragione Tra i minorati Ci si unisce Oltretutto Fiddle Stick Ha anche meno morti di Ashe Per qualche modo Gli stiamo invadendo Il loro elo Con account Smurf Li chiamiamo minorati Li bullizziamo No Draven Bravo Guarda Guarda Morgana Close Li trattiamo come animali E probabilmente La maggior parte Grazie mille Elia Per il sub Eh bro Ti mi attesti impegnata Questo è quello Posso dire Che non c'è La pillola magica Bello Meno male Che hanno banato Brits Noi siamo tipo Come si chiama La flotta dei set Di One Piece Siamo i pirati Che però Legalizzati Che fanno le cose Cattive Però va benissimo È vero Madonna Ma lo sai che mi fa Un sacco male L'addome Perché io le ho fatto Skill Urca Il seguito funziona così Quando ti alleni Va Fiddle Come va back Oh Che è sto danno Ma perché c'ha Stop Ma cosa stanno facendo Perché ti fai Perché ti fai le domande Io sto contando Urbane C'ha 40 minion Comunque È poco Non è pochissimo Ma è poco Dai Stanno andando a difendere Io ho rubato La giungla top Non c'è Vex Vex Ma che fai Ma vacci prima Aspettava il momento giusto Andrà Andrà in Andrà in Sta tirando dritto Momento giusto Deido Tu non capisci Tu non capisci Le minoranze E comunque è vero Si va anche in lane Fiddle stick a farmare Draven va E sta smarfando Sì Lui è uno smarf Cattivo Non come noi Non quello che ci limitiamo A non far farmare Il jungle E' una cosa innocente Innoqua Tanto non lo capiscono Vedi nessuno si sta lamentando XD Vedi sono normali Si Regiscono in maniera normale Good job clowns No è jungle clowns Ah jungle clowns Io a sta vex E' della runnerei down Tipo all'improvviso Ma in realtà è fattuale Io sono un clown Non mi offendo Che cosa chiede Kennen Ma lo sai che cosa mi tiene un attimo scioccato E' che ho visto gente come Dark Rifare più morte di questo Fiddle stick in meno minuti A grand master E non sto scherzando Non è un iperbole Cioè io l'ho visto succedere On a daily basis A grand master La gente mi muore più volte In meno minuti Guarda Guarda gli mando la coppia Impazzisce Si è proprio arreso Non si muove più Poveri minoranze Ottimo 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 Continua a prender i cam Esatto Abbiamo la nostra Ma ormai Fiddle stick va soltanto in lane C'è un Kennen che insegue qua Metto una bella box Draven sta tirando dritto Eh si è smurf 18-4 Non siamo nemmeno noi il problema Parossalmente in sto game no Guarda quanto ce l'ha con me sto tizio Mamma mia Ha particchiato il jungler a questo Vedi Fiddle va top ormai E dove deve andare Eh giustamente Comunque direi che Se dobbiamo fare una cosa del genere Serve Le immobility E le relentless hunter Secondo me Perché abbiamo capito Che la cosa più importante È la movement speed Per raggiungere i campi dell'avversario Si LTP Vado nida di TP Non lo so Nidale non mi convince Se devo essere sincero Flash a Fiddle Raven 21-4 In tutto ciò Dov'è Fiddle? È in base Scappato Però non è reggito male Cioè ha fatto XD E basta Si Ma perché a stagione A stagione non si lamenta la gente Si È il loro mindset Report for double jungle Via sei a posto Report for double jungle Illegale questa Illegale Non è possibile Hai piegato la volontà del gioco Con il tuo volere Come fai Allà non vuole No Allà c'è ti fulmina Come se mangi il maiale Stessa cosa Penso sia quella la La motivazione Nei miei visti i maialini cuccioli No Sono molto belli Immagino Sperto che non diventano grandi E li mangi Sei proprio malvagio Poi dici a me che reporto quelli ad iron Per il tensione al pedo Per le stampate Vedi Ash è morta Più di Fiddle Se ci fai caso Sì sì Ma infatti È affarmato poco di più I miei occhiali Giusto perché è in lane Beh non è che gli altri Abbiamo farmato più di tanto Se ci fai caso Ma è Dreamer Ti ha fatto 80% Con un auto attacco Let's feed si chiama Non è neanche un nome Che metterebbe un tizio Con il suo primo account Non è come Ficchi Fiaconas Che Fides si chiama Fiaconas Quello è un nome da iron Let's feed è un nome da Al tizio che si è fatto L'account Smurf Capito Fiaconas Grazie Daniele Come stai Bentornato Grazie a me del resub Carissimo Grazie mille Ok una new tech ci serve Vorrei fare questo o proxy Tu che cosa hai voglia di fare Magari alterniamo Adesso facciamo una proxata Ok Proxy con chi E in che ruoli Allora Proxy Secondo me deve essere fatto Da Fammi pensare Uno Allora noi vogliamo far proxy Secondo me top e jungle Perché Mid fai troppo Cioè mid devi lasciare la tua lane E mid non riesce a proxare Invece da jungler Top laner e proxy la tua top E jungle vai a proxare Tipo la bot lane Capito Se abbandoni la mid Poi perdi Invece Tanto c'è Vai a proxare la bot La tua bot mica se ne accorge Cazzo di niente Capito Qui secondo me top e jungle Bisogna fare Bye